Il Dipartimento di Economia e Management ha diverse ricadute sulla comunità trentina. In primo luogo formiamo degli studenti che lavorano poi all'interno del territorio del Trentino e formiamo studenti che pur andando fuori mantengono contatti con la realtà trentina. Il secondo, conduciamo delle ricerche che hanno come oggetto di studio diversi aspetti della realtà trentina e quindi i risultati di queste ricerche ricadono sul territorio. In terzo luogo operiamo un'opera di sensibilizzazione verso i temi economici con un numero variabile tra i 40 e i 60 eventi, ognuno dei quali riguarda delle 30 alle 100 persone.